Da oltre un mese attiva presso la sala operatoria di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, l'apparecchiatura radiologica denominata OARM, un apparato che collegato al sistema di neuronavigazione già presente, permette in tempo reale il controllo di tutte le manovre necessarie al corretto svolgimento di particolari e complessi interventi di chirurgia vertebrale. Il sistema OARM fornisce una soluzione completa e di facile utilizzo per le procedure strumentate di chirurgia vertebrale offrendo imaging intraoperatorio multidimensionale di elevata qualità e la possibilità di acquisire immagini fluoroscopiche 2D e 3D e visioni multipiano che consentono di migliorare il processo clinico decisionale. Questa apparecchiatura ci consente di fare un salto di qualità, nel senso che il paziente è un'apparecchiatura che utilizza i raggi X, come abbiamo già detto, ma l'esposizione del paziente è minore, viene fatta un'unica scansione in tempo reale, vengono acquisite le immagini nei tre piani, quindi altezza, larghezza e profondità e viene trasmessa un navigatore che guiderà poi la nostra mano nel procedere dell'intervento. Il concetto qual è? Sembra facile dire mettiamo una vite, ma stiamo parlando di una struttura, la colonna vertebrale che all'interno contiene il mirolo spinale, i nervi radicolari, quindi lo sbaglio può danneggiare il paziente. Con questa apparecchiatura lo sbaglio si riduce quasi a zero. Noi abbiamo ridotto del 25% i tempi di esecuzione di molti interventi chirurgici, ma noi siamo costretti a fare questo anche perché oramai abbiamo le sale operatorie piene, cioè noi operiamo dalla mattina alla sera tutte le patologie possibili e immaginabili e quindi ci siamo dovuti preoccupare di aggiornare anche il nostro parco tecnologico, riducendo anche quelle che sono le liste attese e che oltre alle patologie che vengono eseguite in urgenza e emergenza abbiamo anche le patologie ordinarie, quindi con tutto l'apporto tecnologico che noi possiamo soffrire abbiamo ridotto anche quelle che sono gli accessi in sala operatoria che sono stati accelerati nel tempo più breve possibile.